questa è una foto fatta da davide barranca nelle alpi italiane vicino al confine austriaco personalmente sospetto che davide essendo un ritoccatore e non un fotografo spesso scatti foto solo al fine di correggerle quindi peggio sono e meglio è ma non in questo caso però aveva una ragione ovvia per fare questa fotografia perché davide ha visto qualcosa che ha attirato la sua attenzione anche se ammetto che mi ci sono voluti mesi per capire cosa fosse ed è qui zoomiamo un attimo eccolo signore e signori il soggetto della fotografia davide temo che tu abbia sbagliato lunghezza focale stavolta mi dispiace quindi mi dedicherò al resto perché mi sembra che l'animale sia un attimino troppo piccolo quello che invece mi piace incondizionatamente qui sono le nuvole e vorrei anche migliorare un po la vegetazione non ci sono dettagli rilevanti su piccola scala ma forse un raggio troppo grande qui non è adatto quindi ho lanciato alce a raggio 40 e questo ha reso assai più drammatico il cielo anche gli aloni sono drammatici per usare un eufemismo ma questo è un effetto inevitabile quando un'immagine contiene oggetti con un contrasto molto elevato nei punti in cui si incontrano con altri oggetti in questo caso le nuvole e il cielo vorrei parlare di questo problema ma lasciatemi rispondere ad alcune elementi alle isolate sul fatto che alce crei degli aloni un'immagine vale mille parole quindi vi mostrerò cosa succede quando utilizzate una maschera di contrasto high roll home la sigla inglese che possiamo tradurre con raggio elevato fattore basso noi adesso andiamo a scegliere il raggio in modo da imitare il raggio di alce che è numericamente differente allora eccolo qui questa è la maschera di contrasto e questo è alce di nuovo maschera di contrasto alce in quale delle due immagini notate più aloni notate anche che la maschera di contrasto che vi sto mostrando in questo momento tende a bruciare le alte luci come qui e a chiudere le ombre come qui alce invece no lo ripeto ancora una volta sono due processi molto diversi e hanno assai poco in comune quanto agli aloni dovete farci conti io non riesco a pensare a nessuna tecnica che cade in questo campo che non generi aloni ma liberarsene è abbastanza facile partiamo con gli aloni neri attorno alle nuvole che sono quelli più fastidiosi e partiamo da un fatto molto semplice l'originale non ha aloni dobbiamo quindi trovare il modo di fondere l'originale in modo che gli aloni scompaiano o vengano perlomeno ridotti a livelli accettabili vorrei anche osservare il fatto che questa specifica immagine probabilmente necessita comunque di attenzione perché alcia al 100% è forse un po troppo per il gusto medio indipendentemente dagli aloni dunque dopo aver imparato come si dipinge su una maschera di livello andiamo a sfruttare le maschere più potenti disponibili in photoshop ovvero i canali stessi quello che mi serve in questo caso è una maschera molto oscura nel cielo e relativamente chiara altrove diamo un'occhiata ai canali partendo dall'immagine originale questo è il rosso questo è il verde e questo è il blu come ci aspettiamo il rosso che ora vi sto mostrando è il più scuro di tutti nel cielo ma prima di dire che è un buon candidato vorrei guardare anche lo stesso canale nell'immagine processata quindi rendiamo visibile il livello alce ed esaminiamo il suo canale del rosso questo è il rosso del livello alce questo è il rosso dell'immagine originale non ho dubbi il rosso del livello processato che state vedendo è il candidato migliore non solo è più scuro nel cielo dell'originale ma anche dei visibili aloni attorno alle nuvole che sono anche più scuri del cielo e questo può farci molto comodo il comando che vi serve è applica immagine funziona così create una maschera di livello sul livello alce e dal menu immagine scegliete applica immagine selezionate il livello alce e il canale rosso e accertatevi che il metodo di fusione selezionato sia normale poi date ok ora alt clic sulla maschera questa è la vostra maschera ed è molto scura nel cielo molto chiara nelle nubi e accettabilmente intermedia nelle aree verdi e vi ricordo che vogliamo ridurre un po l'effetto quindi questo ci fa comodo torniamo all'immagine composita facendo alt clic di nuovo sulla maschera e confrontiamo shift clic sulla maschera per disabilitarla e questo è ciò che abbiamo visto prima ora abilitiamola facendo ancora una volta shift clic e vedete gli aluni se ne sono praticamente andati e l'effetto complessivo è meno invadente mi verrebbe da dire che abbiamo finito ma non mi dispiacerebbe schiarire un po la maschera in corrispondenza delle aree verdi nel suo video originale davide faceva diverse manovre con i canali e vi consiglio di dargli un'occhiata se volete vedere approcci diversi a questa immagine ma dal momento che stiamo lavorando con photoshop cs5 userò un metodo di fusione che non era disponibile prima di questa versione e che si chiama dividi non è molto sfruttato forse ma è estremamente potente in certi casi quindi alt clic di nuovo sulla maschera di livello per vederla sullo schermo e applicate un'immagine ho sperimentato un po e ho scoperto che il canale blu del livello alce si comporta molto bene in modalità dividi lo stiamo naturalmente applicando sopra la maschera già esistente schiarisce un po il cielo ma non molto però da una seria botta di luminosità a quasi tutte le altre aree in particolare le nuvole e l'erba che siamo molto interessati a enfatizzare a questo punto potete dare ok ed ecco il risultato passerò da uno stato all'altro prima del divide e dopo con command z questa che vedete è l'immagine con la maschera originale e questa è l'immagine con la tecnica appena mostrata io preferisco questa quindi per quanto mi riguarda ho finito e l'alce o l'alce ancora lassù che pranza no io non cercherò di enfatizzare il suo contrasto locale se mai chiedo a roberto se ha un ritratto migliore su cui lavorare vediamo se mi sta ascoltando grazie a tutti